quando entrai nella sala d'aspetto della stazione di rubin guardai subito l'orologio dovevo aspettare due ore e dieci minuti per l'espresso di parigi in quell'attimo mi sentii subito stanco come dopo dieci leghe di cammino e mi guardai intorno quasi avessi dovuto scoprire sulle pareti un modo per passare il tempo ma poi uscii di nuovo e mi fermai davanti alla porta della stazione con la mente tormentata dal desiderio di trovare qualcosa da fare a strada una specie di viale delle acacere insecchite con due file di case ineguali e differenti le solite case delle piccole città saliva su una collinetta e proprio in cima si potevano scorgere degli alberi come se la via stessa terminasse in un parco di tanto in tanto un gatto l'attraversava scavalcando con eleganza i rigagnoli un botolo frettoloso annusava la base di tutti gli alberi cercando rifiuti di cibo non vedevo nessuno un tetro scoraggiamento mi invase che fare? già pensavo alla lunga inevitabile attesa nel piccolo caffè della ferrovia davanti a una birra imbevibile all'illeggibile giornale del luogo quando vidi un corteo funebre che svoltava da una via laterale per entrare in quella dove mi trovavo io la vista del funerale fu un sollievo per me erano almeno dieci minuti spesi bene ma improvvisamente la mia attenzione aumentò il ferro non era seguito che da otto signori dei quali uno solo piangeva gli altri chiacchieravano amichevolmente nessun prete faceva parte dell'accompagno io pensai ecco un funerale laico ma poi riflettei che una città come Lubin doveva contare almeno un centinaio di liberi pensatori che si sarebbero fatto un dovere di intervenire e allora il passo rapido del convoglio funebre diceva tuttavia chiaramente che quel morto veniva seppellito senza il rito abituale e quindi senza religione la mia curiosità oziota si sbizzarrì con le ipotesi più complicate ma appena il carro passò davanti a me un'idea balzana mi vinse andagli dietro insieme con gli otto signori così avrei occupato almeno un'ora e mi misi in cammino con un'aria triste appresso agli altri gli ultimi due si voltarono stupiti e dopo parlarono tra loro a voce bassa certamente stavano domandandosi e poi consultarono i due che stavano innanzi i quali a loro volta presero a scrutarmi questa attenzione investigatrice mi imbarazzava e per mettervi fine mi avvicinai ai miei compagni dopo averli salutati dissi vi chiedo scusa signori se interrompo la vostra conversazione ma vedendo un funerale laico mi sono affrettato a seguirlo senza conoscere d'altra parte il morto che accompagnate uno dei signori disse è una morte sorpreso domandai ad ogni modo è un funerale laico n'è vero? l'altro signore che desiderava evidentemente informarmi prese la parola sì e no il clero ci ha vietato l'entrata in chiesa gettai stavolta un ah di meraviglia non ci capivo niente davvero il mio cortese compagno mi confidò a bassa voce sapeste è una lunga storia ed ecco perché non le si è potuto fare un funerale secondo i riti suo marito è quello che vedete là il primo quello che piange allora io esitando dissi mi meravigliate sul serio e mi incuriosite signore sarei indiscreto se vi chiedessi di raccontarmi questa storia se vi importuno però fate conto che non vi abbia detto nulla ma quel signore mi prese sotto braccio familiarmente per niente per niente affatto aspettate restiamo un poco indietro ciò che sta per dirvi è molto triste il tempo lo abbiamo dato che la salita per arrivare al cimitero i cui alberi potete vedere lassù è piuttosto ripida e incominciò pensate che questa giovane la signora Amo è la figlia di un ricco commerciante del paese Fontanel quando era ancora bambina all'età di 12 anni ebbe un'avventura terribile fu stuprata da un servo mancò poco che non morisse rovinata da quel miserabile che fu denunciato dalla sua stessa brutalità si svolse un grande processo e risultò che da tre mesi la povera martire era vittima delle empie pratiche di quel mostro e questi venne condannato ai lavori forzati a vita la bambina crebbe segnata dall'infamia sola senza compagni baciata contro voglia dalle persone adulte che credevano di contaminarsi le labbra toccandole la fronte era divenuta per la città una specie di curiosità di fenomeno tutti mormoravano sotto voce sapete la piccola Fontanel per la strada si voltavano a vederla passare non si poteva neppure trovare una ragazza che la conducesse a passeggio e le domestiche delle altre famiglie si tenevano alla larga come se un contagio emanasse dalla fanciulla per estendersi a tutti quelli che l'avvicinavano era una cosa pietosa vedere quella piccola infelice per il corso che è il ritrovo dei bimbi nei giochi del pomeriggio se ne stava tutta sola in piedi vicino alla domestica osservando tristemente gli altri che si divertivano talvolta cedendo a una voglia irresistibile di unirsi a loro si avvicinava con fare timido ed esitante a un gruppo e cercava di entrarvi senza farsi notare come se avesse coscienza della propria indegnità e allora subito dai sedili accorrevano le madri le serve le zia che si portavano via per mano le bambine affidate alle loro cure che le trattenevano a forza con loro la piccola fontanelle restava sola smarrita senza poter capire e cominciava a piangere col cuore gonfio di dolore poi singhiozzando correva a nascondere il viso nel grembiule della domestica quando venne grande fu peggio ancora le ragazze da marito ne venivano tenute lontano come da una pestata la giovanetta non aveva più ormai niente da imparare niente aveva perduto il diritto al simbolico fiore d'arancio aveva conosciuto intero ancora prima che sapesse leggere quel grande segreto che le madri con pudore sogliono appena svelare alle figlie giusto il giorno prima del matrimonio quando passava per via accompagnata dalla governante come se la si dovesse tenere d'occhio costantemente per il timore che incappasse in una nuova terribile avventura e sempre con gli occhi bassi sotto la misteriosa vergogna che sentiva pesare sopra di sé le altre ragazze meno ingenue di quel che si crede vi spigliavano guardandola maliziosamente sogginiavano sotto sotto e voltavano subito la testa con fare distratto se per caso ella le fissava la salutavano appena degli uomini solo qualcuno si toglieva il cappello le madri fingevano di non vederla qualche monnellaccio la chiamava signora battista dal nome del servo che l'aveva oltraggiata e rovinata nessuno poteva conoscere le intime sofferenze del suo animo dato che parlava poco e non rideva mai i suoi stessi genitori si comportavano ambiguamente come se fossero sempre adirati con lei a causa di una colpa irreparabile un uomo onesto non darebbe volentieri la mano a un galeotto appena libero anche se fosse suo figlio e per i coniugi Fontanelle era come aver messo al mondo un figlio da poco uscito dal bagno penale ella era graziosa e pallida alta snella dal comportamento signorile mi sarebbe piaciuta molto signore senza quella brutta faccenda ma quando dunque avemmo un nuovo vice prefetto diciotto mesi fa questi portò con sé il suo segretario particolare uno strano e simpatico ragazzo che era probabilmente vissuto nel quartiere latino vide la signorina Fontanelle e se ne innamorò gli svelarono ogni cosa eppure si contentò di rispondere ma questa è una sicura garanzia per l'avvenire penso che sia meglio che una cosa simile avvenga prima piuttosto che dopo con una donna simile dormirò tranquillo le fece la corte chiese la sua mano e la sposò e siccome non gli mancava una certa sfrontatezza fece gli inviti per le nozze con bella disinvoltura chi accettò e chi no ma alla fine si cominciò a dimenticare ogni cosa ed ella prese il suo posto nella società bisogna che vi dica che adorava il marito come un dio pensate che le aveva reso l'onore che l'aveva fatta rientrare nella legge che aveva sfidato vinto l'opinione pubblica affrontato le offese compiuto insomma un'azione coraggiosa che ben pochi avrebbero fatto così ella aveva per lui un amore appassionato e geloso rimase incinta e quando il suo stato fu evidente anche i più chiacchieroni le aprirono la porta di casa loro come se finalmente fosse stata purificata dalla maternità è buffo ma è proprio così tutto dunque andava per il meglio quando l'altro ieri ci fu la festa del patrono del paese il prefetto circondato dal suo stato maggiore e dalle autorità precedeva la gara delle società di canto e stava per pronunciare un discorso quando cominciò la distribuzione delle medaglie che il suo segretario particolare Paul Hamot consegnava ad ogni iscritto sapete bene che in queste faccende ci sono sempre gelosie e rivalità che fanno perdere il buon senso agli uomini tutte le signore della città erano là sul palco ed ecco che si fece avanti giusto per la sua volta il capobanda di Mormillon ai suoi uomini non toccava che una medaglia di seconda classe non era possibile dare a tutti una medaglia di prima classe non vi pare ma quando il segretario particolare gliela consegnò quello gliela gettò in faccia gridando puoi conservarla per Battista questa altro che a me a lui devi darne una di prima classe tutta la folla si mise a ridere la folla non è caritatevole né delicata e tutti gli occhi si voltarono verso quella poveretta avete mai visto una donna diventar pazza no beh noi potemmo assistere a un tale spettacolo si alzò e ricadde sulla sedia tre volte di seguito come se avesse voluto fuggire ma io capì che non avrebbe potuto attraversare tutta quella gente che la circondava una voce da qualche parte in mezzo al pubblico gridò ancora oh signora Battista allora si fece un gran chiasso misto di sguaiata allegria ed indignazione saliva come un'ondata tumultuosa tutte le teste si agitavano quel nome veniva ripetuto ognuno si tirava su per vedere come si comportasse quell'infelice certi mariti sollevavano le mogli sulle braccia perché potessero vederla anch'esse alcuni domandavano qual è qual è quella vestita di blu i monelli rifacevano il verso del gallo grasse risate scrociavano qua e là ella non si muoveva più stordita sulla poltrona come se l'avessero messa in mostra per tutta quella gente non poteva nascondersi né fare alcun movimento né nascondere la faccia le palpebre le battevano rapidamente quasi che una luce intensa le avesse bruciato gli occhi e ansimava come un cavallo che faccia una salita era una vista che spezzava il cuore polamò aveva afferrato alla gola quel mascalzone adesso rotolarono tutti e due in terra in mezzo a un baccano infernale la cerimonia venne interrotta un'ora dopo nel momento in cui i coniogi amò stavano rincasando la giovane donna che non aveva detto una parola dopo l'insulto ma che tremava come se avesse avuto tutti i nervi messi in movimento da una molla scavalcò improvvisamente il parapetto del ponte senza che il marito avesse tempo di trattenerla e si gettò nel fiume l'acqua sotto gli archi è profonda ci vollero due ore prima che potessero ritrovarla e naturalmente era ormai morta a questo punto il narratore tacque poi aggiunse forse quanto di meglio potesse fare nelle sue condizioni ci sono cose che non si dimenticano adesso avrete capito perché il clero ci ha vietato l'ingresso nella chiesa certo se il funerale fosse stato religioso tutta la popolazione sarebbe venuta ma naturalmente aggiungendosi il suicidio all'altra storia le famiglie se ne sono astenute e poi qui è raro che si segua un funerale senza preti entrammo nel cimitero e aspettai assai commosso che avessero calato la bara nella fossa per avvicinarmi al povero vedovo che singhiozzava e gli strinsi le mani con forza egli mi guardò meravigliato tra le lacrime poi disse grazie signore non mi pentì di aver seguito quel funerale grazie 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 grazie